Siamo alla vigilia del 25 aprile e occorre essere uniti contro le dittature e uniti nella verità. Non facciamo di questa l'aula della mezzogna. Non il 26 febbraio, ma il 9 marzo. La scienza, la scienza qua evocata, diceva che il virus era poco più che un'influenza. Quella scienza è quella a cui si è ispirato questo governo. È detto, è stato detto, è documentato, è stato detto. Non mentite. Allora dite la verità. Non fate di questa l'aula della mezzogna. Almeno qui si aprite il principio di Gian Battista Vico. Verum ipsum factum. E allora avete sentito e avete dato i numeri. Li voglio dare anch'io. No Dattis, no Pagani. Dite anche qui 25 mila morti. Non è vero. Non usate i morti per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. Esattamente i dati, i numeri, i numeri. Dice questo. È la verità. Vaglia a leggere. Vaglia a leggere. Vaglia a leggere esattamente così. Vi ho letti tutti. Il 60% sono morti per altre patologie. Detto dall'Istituto Superiore della Sanità. Se non lo sai, studia. Collega Sgarbi, si rivolga. Collega Sgarbi. Collega Trizzino. Collega Trizzino. Collega Sgarbi si rivolga alla Presidenza. Sono incontagiati e mentre l'Italia e la zona rossa qui tutti erano senza mascherine. Oggi Basini è accusato perché la deve portare per forza. Siete ridicoli. Non l'avete portata fino all'altro ieri. Esattamente così. In Germania, economia, sanità e scuola, il 4 maggio funzioneranno perfettamente. Siamo uno Stato con minori diritti nell'Europa. Germania ha dato prove di forza e di risposta giusta. Noi qui siamo umiliati ancora una volta dalla Germania, anche della malattia. Abbiamo chiuso il 60% delle imprese. Io do dei dati, caro Trizzino. Vagli a verificare. Allora, è chiaro che io fui il primo a chiedere la chiusura del Parlamento. Oggi siamo qua, tutti mascherati. L'altra volta c'era soltanto dell'unto. C'erano pochissimi dall'osso. Erano pochi che portavano la mascherina. Oggi si è additati se non la si porta. Ebbene, proprio perché la verità è la cosa più importante, diamo i numeri reali. Non possiamo mentire. Ci sono certamente dei dati forti. Vi leggo anche qua, Trizzino. Il 56% in Lombardia, il 14% in Emilia, l'8% in Piemonte, il 5% in Veneto. Non possiamo immaginare di applicare delle norme unitarie con zone così disparate di epidemia. E allora, dico almeno qui, diciamo la verità. Misuriamoci con la Germania, siamo uniti nella liberazione contro l'ipocrisia e le menzogne, contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. I 25 mila morti, lo diceva il professor Bassetti, sono morti di infarto, di cancro, di altre... Non usiamoli per umiliare l'Italia. Non usiamoli per dare ai cittadini false notizie. Date i numeri, controllateli e sfido in giuridonore, te Trizzino, a guardare i numeri. Collega Sgarbi, si rivolga alla Presidenza. Ho semplicemente detto che i numeri li danno tutti, ma non dirò numeri falsi. Non sono morte in Italia 25 mila persone di coronavirus. Non è vero. È un modo per terrorizzare gli italiani e imporre una dittatura del consenso. È ridicolo! Grazie a tutti!